Ciao! Si diceva si ricomincia! Si ricomincia! Oggi entriamo negli spogliatoi per intervistare i nuovi ragazzi, i quali erano in prestito ad altre società. L'allenatore dice che sono bravi! Voi che venite? Vivo! Vivo! Vedete? Andiamo! Ciao! Quest'anno abbiamo aumentato leggermente lo spessore tecnico della squadra. Ho visto elementi nuovi. Elementi nuovi che sono nostri comunque che erano in prestito ad un'altra società. Ma erano altrui? Si si si. Che sono tecnicamente leggermente, perché sono un poco più grandi, sono tecnicamente un poco migliori a loro e loro devono apprendere e devono integrarsi con questi ragazzi. E quelli sono in grado di insegnare? Ne usciranno solo un bene e non il male. Avremo buone possibilità quest'anno? Pure possibilità. Puntiamo a fare sempre i migliori risultati possibili. Alle prime partite ci sentiamo? Certamente. Ci auguriamo una vittoria? Sempre. Anche la partita? Lo spirito è quello? Lo spirito è quello là. Andare in campo per vincere. E poi? Per vincere. E quando non si vince? Purtroppo uno ci prova, ci tendiamo sempre a vincere. Ci vediamo alla prima partita. Ok. e poi a noi cominciare. Il nostro sito lo conoscete? No. Allora ve lo fate dire? E dici? Vai! Allora, facci capire un attimo. Tu sei nuovo? Si. Questa è la prima volta. Da dove vieni? Da Barra. Centroeste. Ah? Centro? Ester. Centroeste. Sono di vola. E quanto tempo vi pensate di venire qui? È più a lunga possibile. Alza la voce perché... Pià a lunga possibile. Pià a lunga possibile. Ti auguro di fare belle cose. Grazie. Ok, grazie. Voi da dove venite? Centroeste. Anche voi? Scusate, ma questo Centroeste, un nero con un centro e bellezza, mi pare. Era un centro e bellezza. Centroeste, di dove sto Centroeste? Parra. Siamo bellissimi. Che vi augurate? Primi in classifica. Primi in classifica, che sarete? E tu pure vieni dal Centroeste. No, io da Ponticelli. Tu vieni da Ponticelli, quindi... La differenza tra Ponticelli e Centroeste... Che loro sono più organizzati. E noi stiamo a Ponticelli. Parlami dell'organizzazione. Ponticelli? No. E qui, secondo te, qua l'organizzazione... Sì, secondo te è buona. Sicuro? Sì. Perché era cattivo a Ponticelli? Ah, per gli allenamenti, per le situazioni. Ah, per le situazioni. Solo questo. Sì, sì. Puoi essere importante. Voi perché eravate più organizzati? Lo sa lui. Lo sa lui. Tu che non vale da Passi Solat? Fammi capire, pure tu vieni. Da dove vieni tu? Da Centroeste. Allora, perché è più organizzato il Centroeste? Perché c'è una mentalità migliore, più organizzata. Conta la mentalità? Naturalmente. Senti, allora, scusate, ragazzi. Noi, questa è la prima volta che ci intervistiamo. Poi vi troverete nel sito, lo guardate, perché già ci sono le fotografie, faremo le fotografie a tutti quanti. Quello che conta è quest'anno cercare di fare qualcosa di interessante. Primo posto. Sarete... No, ma a me, personalmente, resta poco. No, no, ma a passato. No, sarete, sarete coinvolti, coinvolti. Il capitano ha detto... Sarete coinvolti. Tu sei capitano, dove ti chiami? No, sono la ragazza. È la ragazza della società. Volevo dire, sarete coinvolti a poter partecipare perché ci sarà qualcuno che vi intervisterà puntualmente, eventualmente, dopo le partite. E le vostre impressioni, le vostre impressioni devono essere le regole. No. No. E dove stai? Che cosa stai facendo? Stai facendo? Eravate tutti e tre, andavate tutti quanti lì. Senti, tuo fratello, parlaci un attimo di tuo fratello, sabato. Mio fratello, questo è il secondo anno alla firma del contratto con il Cercola. Come si trova? No, si trova bene, sta facendo la del 14 nazionale. Ah. Spero il meglio per lui. Allora, ce lo saluti perché noi lo teniamo, ce lo so. Ciao, ragazzi! Grazie a tutti.